Questo non è un luogo abbandonato ma per chi è di gruppo e venti dei nostri figli. Buona visione! Buona visione! Non è rimasto niente. Eh si, è stata trasformata in palestra. Come è? Qui c'era la si saliva, c'era il bar qui, vero? Qui c'erano i tavolini. Il guardaroba, bravo! Grazie. Scusami tantissimo, davvero, del disturbo. L'unica cosa che è rimasta uguale, che era la cabina del DJ? No. Ma assolutamente il ripostiglietto. Il bancone del bar era qui. Il bancone del bar era qui. Ripostiglia. Ci ho fatto anche i compleanni di mio figlio qui. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Chissà se ci sono vecchie foto. Dove le posso trovare vecchie foto? Eh... Perché è Franco Luglio. Vero? Mannaggia, questa era l'entrata. Dove c'erano i buttafuori? Per esempio se erano iусilii. Ophone. Ophone. Inizial, it's space. Un'icciclielro, maggiore. Un'icciclielro. 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 Grazie a tutti